Ciao a tutti, eccoci in un altro video dove proseguiamo l'analisi dei grandi maestri contemporanei oggi parliamo di un personaggio molto particolare, Aleksandr Morosevic Morosevic è conosciuto come un grandissimo giocatore d'attacco anche se negli ultimi anni è finito la fine nello sfondo partecipa molto di meno ai tornei fino al 2014-15 più o meno la partita che vediamo oggi è il 2013 quindi un po' il suo ultimo periodo ha vinto il campionato russo quindi di certo ha saputo anche coniugare proprio il gioco d'attacco a una lunga serie di vittori per esempio lui ha vinto il campionato russo riuscendo a ottenere anche un record di punti cosa che succedeva molto raramente parliamo del 2007 ha vinto con 8 punti su 11 poi ha vinto anche a squadre ma di certo è conosciuto soprattutto per il suo stile che ama sempre le posizioni complicate aperture anche varianti inusuali e secondarie per esempio contro il gambetto di donna ha spesso utilizzato la difesa C-Gorin che per chi non lo sapesse è D4, D5, C4, cavallo in C6 piuttosto che slava ortodossa oppure anche il contro gambetto Albin lui è uno che ha una propria posizione molto ben ragionata e complicate che perfece sempre mantenere la tensione sulla scacchiera e qualcuno infatti lo ha anche con le dovute proporzioni lo ha anche paragonato allo stile di Michael Tal il grande mago di riga la partita che vediamo oggi si è giocata proprio al Tal Memorial modalità blitz nel 2013 è giocato contro Carlsen che ancora non era campione del mondo lui è diventato nell'autunno questa partita si è giocata a giugno 2013 cominciamo qui il Moro come viene chiamato Morozevic apre con E4 Carlsen risponde con la sua solita difesa siciliana cavallo F3, cavallo in C6 ricordiamo sempre che cavallo in C6 controlla subito la casa E5 andando quindi a bloccare il pedone E del bianco che spinge qui con D4 siciliana aperta con cavallo C6 C per D, cavallo per D4 adesso si rientra possiamo scegliere comunque in quale variante rientrare per esempio cavallo F6 se Nero vuole attenersi sempre alle mosse un po' più giocate E5 se vuole una spinta molto impulsiva invece qui adesso rientriamo nel dragone accelerato quindi con G6 Carlsen sceglie di fianchettare subito l'alfiere e attaccare questo cavallo con ben due pezzi cavallo C3, alfiere in G7 e alfiere 3 di conseguenza per difendere il cavallo in D4 e ora si prosegue con lo sviluppo cavallo F6 così il nero può arroccare corto prepariamoci che sarà una partita molto tattica di posizioni molto complesse sacrifici, attacchi multipli le vedremo dal punto di vista tattico proprio alfiere in C4 donna 5 quindi Carlsen preferisce non arroccare subito libera la donna va a inchiodare il cavallo ma di certo qui per il bianco non è fatto un problema arrocco corto arrocco corto per il nero il cavallo è qui stato schiodato si procede adesso con la solita alfiere in B3 che qui sappiamo bene come anche la variante quella dell'attacco Fischer sempre contro il dragone accelerato per vedere proprio alfiere in B3 dove può essere non può essere attaccato ma controlla sempre questa diagonale andando a minacciare il reggis e l'avversario ok Carlsen adesso sceglie ad andare avanti subito con D6 blocca il pedone qui è chiaro come nella siciliana si cerchi sempre di isolare bloccare e attaccare il pedone E del bianco Morozovic sceglie di adottare una misura profilattica come H3 per impedire l'alfiere G4 che andrebbe a infastidire subito la donna quindi H3 misura di profilassi Carlsen va avanti con l'alfiere D7 e qui assistiamo adesso all'inizio dell'attacco del bianco F4 fin qui comunque è tutto abbastanza teorico partite abbiamo viste decine centinaia tantissime con queste posizioni F4 bianco sceglie di attaccare subito la rocca avversaria utilizzando il pedone mirando ad aprire la torre e poi la donna anche potrà sfruttare questa diagonale qui siamo soltanto alle origini proprio dell'attacco Carlsen preferisce adesso cambiare due pezzi cavallo per D4 alfiere per andando un po' ad alleggerire la posizione alfiere in C6 quindi migliorare la posizione dei pezzi doppio attacco adesso contro il pedone E4 qui si poteva pensare di difendere con torre 1 funzionava invece il moro preferisce donna in D3 andano a confondere con Moroni e Luca Moroni il nostro campione italiano che viene chiamato il moro anche lui ok quindi Morosevic gioca donna in D3 andando a difendere il pedone qui è possibile anche non subito ma chiaramente apre a donna G3 che può essere una carta che bianco può sfruttare all'occorrenza cavallo in D7 faccia a faccia fra i due alfieri e qui il moro decide di cambiare la coppia re per G7 cavallo in D5 dove si va subito ad attaccare e adesso serve un gioco molto più collettivo quindi valorizzare subito anche le due torri qui Kalsen preferisce dare scacco donna in C5 re in H1 e anche H2 poteva andare bene ma di certo il bianco non soffre questo attacco e ora E6 allo scopo di scacciare il cavallo Kalsen si difende molto bene Morozevic qui ha bisogno di trovare qualcosa un po' di diverso e attenzione qui a non cadere in errori come per esempio cavallo in C7 illudendosi quasi di attaccare la torre perché qui con torre in C8 il cavallo è perso al massimo può dare scacco ma niente di che guadagnando due pedoni di certo Nero sarebbe stato subito un vantaggio quindi alla fine Morozevic è costretto a far tornare il cavallo in C3 quindi l'attacco viene bloccato ma è chiaro che con un giocatore impeccabile dal punto di vista difensivo ogni attacco alla fine finisce per schiantarsi come contro un muro il cavallo allora torna in F6 andando subito a mettere pressione al pedone contribuendo anche con un pezzo leggero a difendere l'arrocco e qui torre in D1 quindi Morozevic cerca adesso di attaccare subito al centro torre in D8 perché difende subito doppiamente il pedone e ora FC quindi trovare qualcos'altro Bianco deve assolutamente mantenere l'iniziativa nonostante finora non abbia fatto un grande attacco pericoloso l'obiettivo da parte del Bianco è quello di complicare sempre di più la posizione mantenendo naturalmente la lucidità ma noi sappiamo come Morozevic che tra l'altro non l'ho detto in classe 77 nel corso della sua esperienza sapeva proprio come mantenere la calma e concentrarsi in posizioni molto complesse e anche considerato uno dei migliori giocatori al mondo di scacchi alla cieca visto che ha vinto più e più tornei quindi proprio la concentrazione la tensione da saper mantenere la tensione in alcune posizioni F5 quindi va subito a creare questo punto di contatto con i due pedoni Carlsen ancora una volta e chiaramente il nero sta bene con posizione di gioco chiuso quindi donna E5 e adesso torre in E1 segue verso B5 il nero imposta comunque contro il gioco vedendo che l'attacco avversario non riesce proprio a esplodere e allora qui è chiaro che ci vuole una bella invenzione Morozzi infatti gioca cavallo in D5 quindi un'offerta offre il cavallo al suo avversario chiaro che qui ha calcolato un taticismo anche abbastanza basilare in caso di cattura da parte del pedone quella forse più logica che Carlsen non ha giocato E per D5 e bianco va a star meglio a seguito di E per D5 attacco di scoperta contro la donna in più si riprende al fiere al massimo qui donna per B2 doveva sacrificare un pedone questa struttura è ultima tutto ben difeso D per C6 e qui comunque il bianco sta bene anche perché è riuscito un po' ad aprire di più la posizione quindi è favorevole al bianco cavallo D5 offerta assolutamente da rifiutare qual è la mossa qui corretta c'è un attacco contro il cavallo in F6 quindi è chiaro che se il nero rifiuta di prendere il cavallo poi lo stesso vale qui con al fiere per D5 si recupera il pezzo e qui anzi la donna è completamente persa non può andare da nessuna parte al massimo che donna per B2 D per E6 altrimenti bisognava catturare la torre e qui ci si ritrova già in brutte acque meglio invece qui cavallo H5 quindi andando subito a mantenere i più pezzi sulla scattiera questo cavallo difende l'arroco quindi è essenziale che non venga cambiato torre in E3 andando a aggiungere ancora peso offensivo A5 Carlsen comunque se notate non rinuncia di certo ad avere un controgioco quindi è chiaro che Morozovic qui stia lasciando spazio al suo avversario sull'ala di donna così come A4 che potrebbe essere una mossa pericolosa da un momento all'altro lui sceglie ancora una volta di prendere un tempo dando scacco perché l'unico modo qui A4 era veramente pericolosa si perdeva assolutamente un pezzo quindi F6 scacco e segue Reina K8 qui naturalmente il nero non può catturare perché con cavallo per F6 si perde sempre cavallo prende pedone si perde comunque la qualità cavallo per F6 dona per B2 al massimo siamo un po' punti a capo e il bianco torna a stare meglio questo si può dire che era un pedone con un cavallo in alto da parte di Morozovic scacco Reina K8 un modo di difendersi abbastanza semplice e adesso tocca anche al bianco difende l'alfiere quindi A3 in modo da non temere più questa minaccia A4 dona per B2 finalmente cade questo pedone e adesso segue cavallo in E7 e qui il bianco conquista un ultimo punto strategico Carlsen risponde con l'alfiere A8 perché l'alfiere qui viene attaccato quindi non si poteva non si poteva difendere naturalmente con torri in C8 quindi è costretto a relegare l'alfiere nell'angolo dove rimane comunque abbastanza operativo perché questa diagonale rimane controllata dall'alfiere delle casecchiare punta sul pedone anche se Carlsen qui pian piano inizia a scricchiolare la sua posizione dona per B5 ma Rosevic riesce a conquistare un pedone il cavallo in E7 è un punto di forza quindi è essenziale che resti in questa posizione ma c'è un cavallo in sesta si dice a volte che sia sufficiente per vincere una partita nel senso che quando un giocatore porta un cavallo in sesta solitamente vince quindi l'importanza della strategia qui infatti Carlsen sceglie di rimuovere subito il difensore cioè cavallo per F6 una cattura che adesso è assolutamente possibile ottima per il nero e Carlsen qui pian piano riesce a stare bene a arginare le minacce avversari anche se vedremo che la furia d'attacco di Morozovic è appena cominciata lui risponde adesso con donna in G5 mossa che può portare dei rischi qui la posizione viene valutata favorevole addirittura al nero e Carlsen comunque sta bene non di certo per il pedone di vantaggio quanto per la posizione che riesce a reggere e a mantenere comunque delle iniziative pericolose cavallo per E4 qui essenziale come ho detto l'attività di questo alfiere insieme al cavallo attaccava con due pezzi il pedone che viene subito tolto di mezzo attacca la donna e qui il Moro risponde con donna K4 doppio attacco contro il cavallo il nero preferisce qui difendere Carlsen con donna E5 questa invece si è rivelata una difesa scorretta da parte del nero così come sarebbe stato scorretto naturalmente spostare il cavallo qui anche il cavallo in C5 non era granché anche perché qui si poteva fare affidamento su diversi tatticismi vale a pensare qui alfiere per E6 catturando il pedone qui il nero non può assolutamente prendere per via di cavallo per G6 scacco con il pedone inchiodato e si perde la torre quindi anche cavallo C5 era un'idea da bocciare l'unica mossa abbastanza complessa visto che parliamo di Carlsen non l'ha notata era G5 quindi attaccare la donna col pedone perché è chiaro che qui con G5 era assolutamente sicura il bianco non poteva prendere il cavallo perché è chiaro che la donna non può essere tolta di mezzo così dall'alfiero avversario quindi per esempio donna H6 e a quel punto si poteva difendere anche qui donna G7 forzare il cambio delle donne e certo quel cavallo poteva salvarsi soprattutto poi di fronte a un giocatore del genere commettere certi errori di difesa non fanno altro che offrire proprio la possibilità in questo caso al bianco di aggiungere ancora di più forze d'attacco e qui Morozi decide di andare avanti con un bel sacrificio torre per F7 offre adesso anche la torre il nero ancora una volta deve rifiutare perché qui sarebbe stata partita persa con torre per F7 serve cavallo per G6 doppio di re e di donna il pedone inchiodato l'unica re G7 la donna è persa assieme alla partita torre per F7 un altro pezzo avverenato da parte di Moro donna ha uno scacco Carlsen cerca di rompere il ghiaccio torre re in H2 qui anche torre 1 poteva essere molto buona lui preferisce andare sul sicuro questa volta con re in H2 qui torre per F7 poteva funzionare quindi Morozi avrebbe ottenuto la qualità anche se qui torre per F7 cavallo per G6 non c'è più il pericolo di perdere la donna attenzione però dopo re in G7 giusto per vedere un'idea dona per D8 e il bianco guadagna la torre quindi riprende più che altro la torre poi H per G6 e Morozi ci si poteva rifare sull'alfiere un giocatore che sa assolutamente come giocare non resistere neanche proprio giocare senza neanche grandi sforzi a linee così a quote così elevate tutto sulla capacità di calcolo infatti come ho detto un grandissimo campione di scacchi alla cieca quindi torre per F7 dona uno scacco re in H2 scacco ancora re in H1 dona nell'angolo re in H2 qui sfiorando quasi il pareggio e dopo donne 5 scacco e si procede ancora ulteriormente finché a un certo punto Morozi si ritrova costretto a giocare quello che fosse avrebbe dovuto fare sin da prima ovvero torre in E1 qui è chiaro che la partita era comunque abbastanza equilibrata forse stava pensando non sappiamo non siamo nella sua mente del tutto quindi forse non rifiutava l'ipotesi di un pareggio sarebbe stato comprensibile visto che Carlsen para novembre 2013 novembre dicembre se non ricordo sono bastati 10 anni è diventato campione al mondo torre in E1 interposizione qui il nero si trova già nei guai cosa può fare di operativo Carlsen quali sono le mosse corrette qui molto molto di meno un giocatore alla fine ha più scelte e molto più vicino anche all'errore donna C3 vediamo Ne1 che non è stata giocata in partita salvare subito la donna oppure anche donna per A3 ma mettiamo donna C3 torre per H7 scacco matto quindi è chiaro che l'unica cosa che può fare a questo punto Carlsen sia dare scacco e quindi tanto vale prendersi la torre donna per E1 scacco guadagna la torre cede la regina donna per E1 torre per F7 Carlsen sta bene cambiato la donna in campo delle due torri vedremo però che la furia di Morozovic in realtà non è ancora finita sacrificio del cavallo che prende subito in G6 qui re in G7 è chiaro che accettando ci sarebbe stato donna C4 e doppio non di re cavallo ma donna C4 si perde la torre quindi grande svantaggio cavallo per G6 scacco re in G7 un altro pezzo avvelenato ma qui non c'è nessun problema Morozovic preferisce passare sempre a linee più d'attacco donna per A5 cattura il pedone completamente infischiando zona del cavallo e ovviamente qui si attacca anche alla torre quindi ancora una volta non può essere catturato è sempre un modo di difendere questo torre in E8 così da difendere anche il pedone che qui era sotto attacco la parte dell'alfiere diciamo che alla fine Morozovic è riuscito a creare un attacco multiplo si può dire in tutta la scacchiera lui aveva sempre dei pezzi in presa ha cercato di ben orchestrare ed è riuscito a creare un attacco veramente perfetto cavallo in H4 qui re nell'angolo re in H2 la situazione sembra essere un po' più calma Carlsen decide di valorizzare anche i due pedoni centrali visto che i pezzi sono più o meno alla pari parlando di qualità due torri compensano la donna più cavallo alfiere allora qui segue D5 donna in B6 qui torre in E7 perché comunque necessita di un secondo difensore qui il pedone quindi torre in E7 cavallo in F3 rimette subito in gioco tutti i pezzi vedremo alla fine che dal punto di vista combinativo e niente da dire qui il bianco è stato superiore Carlsen spinge ancora in E5 donna in H6 tornando prepotentemente l'attacco forse anche troppo qui l'ideale sarebbe stato giocare alfiere A4 andando a molestare una delle due torri che doveva obbligatoriamente abbandonare questa colonna donna H6 qui cavallo in C5 attacco al alfiere cavallo in G5 e qui già inizia a nascere un altro attacco Carlsen preferisce cambiare tutti i pezzi vedendo ciò che è riuscito a combinare il suo avversario cavallo per B3 C per B3 adesso E4 sempre in partita comunque il nero di certo parliamo di Carlsen sarebbe stato impossibile troppo utopico immaginare Mario Scars il futuro poi campione del mondo dopo pochi mesi crollare così contro nonostante un grande maestro ma in maniera così elementare donna F6 scacco re in G8 donna in F4 dove prepara subito ancora l'attacco qui H6 poteva essere molto buona andando più se si preferiva qualcos'altro a scacciare i pezzi avversari quindi alleggerire la posizione allontrando gli attaccanti H6 qui anche cavallo per E4 ci poteva stare assolutamente bene in cambio dei pedoni quindi rimuovere la qualità eliminare questo pedone che era fastidioso scacco re in G8 donna F4 Carlsen invece preferisce spingere subito un D4 e qui donna in G4 prepara attacchi di scoperta quindi il re si deve immediatamente spostare nonostante D3 poteva andare bene quindi facendo tutto affidamento sul singolo pedone era un blitz quindi non è che il tempo abbondasse per Carlsen quindi re in H8 soprattutto in una partita estremamente faticosa come questa donna F5 alfiere come vedete difende ancora questo pedone e adesso si procede con E3 questa diagonale viene comunque aperta quindi da non condannare certo l'idea di giocare alfiere A8 perché rimane comunque nonostante un po' dietro le quinte più partecipa al gioco di quanto sempre cavallo F7 scacco non può essere assolutamente catturato quindi obbliga il re adesso a esporsi nuovamente in G7 cavallo in D6 si attacca subito la torre qui Carlsen sceglie di giocare il tutto per tutto commettendo l'errore spinge nei due con poco tempo sul timer non che spostare ok spostare la torre poi qui sempre torre in D6 questo punto poteva essere molto buona anzi c'era un matto qui donna in G5 con il cavallo erano grossi problemi rena H8 donna F6 scacco vediamo un po' questa variante nel momento rena G8 mose forzate e qui si tornava con cavallo F5 dove alla fine il nero non poteva fare più niente anche perché c'è una torre impresa qui se la si sposta cavallo H6 scacco minacce multiple incredibile come Morozovic anche con due pezzi riusciva a creare attacchi letali però comunque dice anche la teoria che con cavallo e donna in certe situazioni può essere veramente letale Carlsen ormai con poco tempo decide di spingere troppo prematuramente in E2 e la partita si chiude dopo tre mosse niente matto non è riuscito a dare il matto Morozovic è stato Carlsen ad arrendersi a seguito di scacco rena H8 donna F6 re G8 e qui la solita cavallo F5 non si può più fare niente al massimo H6 ma sempre parlando di misure veramente brutte per il nero che non poteva salvare la torre che comunque doveva questa torre controllare la casa G7 per evitare il matto non può essere spostata da nessuna parte perché cavallo H6 matto in un colpo l'unica era qui giocare H6 perché se il cavallo cattura il re può andare in H7 in questo modo avrebbe perso la torre quindi cavallo per H7 che è da scacco e qui non si può fare niente re in H7 porta il matto dona in G6 re nell'angolo dona per H6 scacco matto quindi l'unica soluzione alla fine con cui Carlsen poteva rimandare non evitare ma rimandare il matto qui era giocare H6 poi cavallo per H7 cedere anche l'altra torre dona per H7 qui potevi promuovere tutti i pedoni e la sconfitta era comunque una dura triste sentenza grandissimo Marosevic questo è un po' il suo ritratto di giocatore il suo profilo proprio parlando sempre del suo stile d'attacco tanto che ho detto che veniva paragonato a Mikhail Tal penso che probabilmente conosciate in molti Alexander Morozovic il moro alla fine è riuscito in questa partita del 2013 a battere Magnus Carlsen una grande bella soddisfazione soprattutto se si vince in questa maniera sapendo attaccare sempre e dimostrando una conoscenza tattica veramente disumana questo è tutto ci vediamo al prossimo video